Mi chiamo Ismaele e un anno fa mi sono candidato a sindaco di Palermo. All'inizio eravamo solo un gruppo di ragazzi, ma poi, visto che andavo forte, la politica si è accorta di me. Quando ho capito come giravano le cose, ho iniziato a registrare tutto e tutti con una telecamera nascosta. Ho documentato accordi indicibili, intrighi pericolosi. Ho svelato l'identità di vecchi e nuovi burattinai della politica. Ehi Ismaele, ma poi se tu vuoi dimostrare per forza che siamo tutti delle merda, ne fanno! Italian Politics. La radiografia del potere. Come non l'avete mai vista.